Portare il carcere fuori dal carcere è questo lo scopo di One Man Jail, le prigioni della mente, l'unico spettacolo in Italia che utilizza le nuove risorse digitali per un progetto di teatro nei penitenziari, in programma in prima assoluta martedì 25 e mercoledì 26 gennaio al Teatro Cantiere Florida di Firenze. La tecnologia in questo caso consente di ribaltare però le regole e le percezioni, portando il teatro nel carcere e portando gli spettatori in teatro ma con gli attori fuori dal perimetro carcerario. Come è possibile? Tramite la diretta streaming che si materializza sul palco in tempo reale i giovani attori detenuti dell'istituto penale minorenni Meucci raccontano dunque una storia di ossessioni e libertà mentre il pubblico si trasformerà per due ore in un gruppo di prigionieri o forse si accorgerà di esserlo sempre stato in un caleidoscopio di ribaltamenti e cortocircuiti tra dentro e fuori. Si sentono considerati, sentono che c'è fiducia in loro, aderiscono al progetto ecco l'esperienza teatrale li aiuta anche a darsi delle regole, a esprimere emozioni, senz'altro ha una forte valenza educativa insomma l'attività teatrale in istituto. La storia è quella di Frank Petroletti, comico che all'apice del successo viene arrestato e incarcerato. All'interno della prigione di fronte ad un pubblico di detenuti ostili e disinteressati lo show caustico e strampalato lo porterà ad affrontare le proprie paure e i pensieri che lo tengono realmente prigioniero a liberarsi dei personaggi che affollano la sua mente per raggiungere un altrove forse meno rassicurante di quello che si vorrebbe far credere. Tutto quello che nello spettacolo sarà proiettato in tempo reale perché i ragazzi detenuti reciteranno in tempo reale è la rappresentazione della mente di questo di Frank Petroletti e quindi Frank riuscirà a liberarsi dalla diciamo dalle prigionie della sua mente.